Io non ho ancora capito perché, se non per questione di bandiera politica, non riusciamo a liberarci del reato di clandestinità. E cioè di dire che ogni persona che è in territorio nazionale, per il solo fatto di essersi entrata, commette reato. Ha fatto eco in tutta Italia l'intervista a Ring del procuratore di Trieste Antonio De Nicolo, che ha proposto la cancellazione del reato di clandestinità. Un vulnus che, ha spiegato, determina l'intasamento dei tribunali del Friuli Venezia Giulia, nonché va a stallare proprio i procedimenti volti a colpire le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani, impedendo di sentire il migrante fermato come testimone in quanto indagato lui stesso. Questa è una norma penale totalmente inutile. Se la cancellassero oggi, brinderei con lei. Non è d'accordo invece sulla cancellazione del reato l'assessore regionale alla sicurezza e all'immigrazione, il leghista Pierpaolo Roberti. La politica qui in questo caso deve fare una scelta. La scelta è quella di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se è giusto quindi che una persona entri in modo clandestino sul territorio nazionale oppure no. Dal mio punto di vista non è giusto ed è giusto che per principio la clandestinità sia un reato. Come reato penso che ci debbano essere delle forze dell'ordine che devono fare di tutto per prevenire che quel reato venga commesso, che quindi le persone non entrino in Italia. Quindi un esempio pratico del perché, secondo Roberti, sia ingiusto cancellare il reato a causa dei problemi che provoca ai tribunali. Penso che i nostri tribunali sono pieni di tanti procedimenti e i tempi della giustizia lo dimostrano purtroppo. Troppo spesso si va a finire il tribunale, ma questo non vuol dire che per alleggerire il carico di lavoro io devo pensare che da domani, che ne so, il piccolo spaccio non è più un reato penale. Perché in quel caso non ho eliminato il problema, ho semplicemente depenalizzato un comportamento che secondo me è del tutto completamente sbagliato. Dunque un invito molto chiaro al Governo ad intervenire finanziariamente in sostegno al lavoro dell'apparato giudiziario. Certamente servono risorse in cui ci rivolgiamo allo Stato, nel senso che ovviamente oltre ad essere competenza statale e chiaramente dare le risorse anche umane disponibili ai vari tribunali, devo ricordare che la Regione Friuli Venezia Giulia si fa carico di competenze non sue, noi diamo personale ai tribunali.